Viva l'Italia antifascista! E a quel punto? La voce femminile dalla Galleria Superiore ha urlato bravo, altri hanno applaudito dalle gallerie, sotto ho sentito un brusio e applausi. Ci sono qualificati, siamo della Digos, abbiamo bisogno di identificarla. Ma perché? Dico, stia attento perché se non si fa identificare è reato. E gli ho detto, ma non mica ho fatto un reato, dico. Se avessi detto viva l'Italia fascista, voi eravate autorizzati a prendermi, legarmi e portarmi fuori legato, perché avrei fatto un reato. Ho detto, viva l'Italia antifascista, non vedo il reato. Infatti non ha commesso alcun reato, non le facciamo niente, anzi, le diremo di più, siamo anche d'accordo con lei. Non mi era piaciuto che la segre, che merita solo stima e anche di essere un po' lasciata stare, fosse stata usata e messa in mezzo per questa storia. Io su quelle tue immagini, una ombra, odore, profumo minimale di fascismo, no, non ci riesco. Ombra minimale mica tanto, o profumo minimale, com si com sa, di razzismo, sono due cose che io non mi quagliano, non ce la faccio. È così clamoroso dire viva l'Italia antifascista, la prima della scala. Cioè una cosa così clamorosa mi fa un po' riflettere.